Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato ieri sera? Concorrenti nominati on dopo la puntata di lunedì 20 febbraio 2023. Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello Vip tra Antonino, Andrea, Nicole, Sara, Daniela e Nikita? Questa è la domanda che si pongono i telespettatori. I più curiosi è quelli che, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a seguire la trasmissione fino alla fine. Prima di scoprire il nome dell'eliminato, vi ricordiamo che il reality sta continuando ad appassionare tutti. Tra storie d'amore che nascono, altre che finiscono, confronti accesi, scontri, discussioni e tante polemiche. Ma cosa è successo nella puntata di ieri, lunedì 20 febbraio? Chi dei vipponi ha dovuto abbandonare definitivamente la casa più spiata di sempre? Dopo la decisione del pubblico di salvare Oriana, altri sei concorrenti sono finiti al televoto. Quindi a rischio eliminazione. Stiamo parlando di Antonino Spinalbeise, ex di Belen che sta cercando di scostarsi da quell'etichetta. Di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella casa più famosa d'Italia. Di Nicole Murgia, che continua a farsi conoscere, di Sala Altobello, che con la sua spontaneità ha conquistato tutti. Di Daniele, sempre più vicino e complice con Oriana, nonostante la presenza dell'ex Martina e di Nikita Pelezon. Che nelle reality ha trovato in Antonella un'amica e confidente. Chi di loro ha dovuto lasciare? E definitivamente, il gioco a pochi mesi dalla finale. Non esiste puntata del Grande Fratello Vip senza le nominazioni, spesso teatro di discussioni e polemiche. Chi dei concorrenti è finito al televoto? Probabilmente nella prossima puntata. Quella di giovedì 23 febbraio, nessun vippone verrà eliminato e i telespettatori da casa dovranno salvare il preferito. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare per capirlo. Intanto, l'appuntamento con la casa più spiata d'Italia è per giovedì prossimo. A partire dalle 21, 30 circa, sempre in diretta su canale 5. La tot cam, ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint, casa de cultură hip-hop mă găsești construind, spui beton după care îl întind, și el devine tare în timp, că așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul, și acum rap-ul-i moda onu, așa-i. Și zici că stom ford, la cum mă confort, Întreaba asta nu-i loc de confort, ricord și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, Încă de când el era broke, și se uza de aerosol. De când avea mall, de când nu știai ce-i un niscol, De când ascultam gangsta-rapper bază pe pistol, Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor, Vă întâlniți-n tristor, la zero grade biscol, Nu tac nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile ma... Mulțumesc.